La giunta del sindaco di Savone, Ilaria Caprioglio, perde l'assessore alle politiche sociali Cristina Bellingeri. L'assessore in quota Lega Nord ha infatti rassegnato oggi le sue dimissioni dopo un lungo periodo di polemiche legate ai tagli al bilancio che hanno notevolmente ridotto i fondi a disposizione per i servizi sociali, con la conseguenza di critiche forti da parte anche di sindacati, associazioni e lavoratori. Pare sia stata la stessa Lega Nord a predisporre un piano per l'uscita dalla giunta della Bellingeri. Per ora le sue delle che saranno assunte ad interim dal sindaco Caprioglio, ma in seguito quasi certamente la Lega proporrà un nuovo assessore e la scelta potrebbe ricadere su Maria Zunata, esponente del carroccio della Val Bormida.